Per risolvere il commercio a Teramo forse ci vuole veramente un miracolo a Natale. Tra San Berardo e Natale però qualcosa riuscirete a fare? Sì, stiamo organizzando con la CNA una mostra dell'artigianato artistico, il 7, 8 e 9, il weekend del 7, diciamo dell'8. Poi sotto Natale, al ridosso di Natale, stiamo organizzando la fiera, la solita fiera di San Berardo che ormai è una tradizione, è arrivata alla quindicesima edizione e poi in concomitanza faremo la prima mostra del dolce da forno natalizio che in quel weekend ci sarà una tensostruttura lì davanti proprio al gazebo del Grand'Italia e abbiamo fatto un accordo con i panificatori che venderanno i dolci da forno tipici, i nostri terramani. Il 20 torniamo con la Pericrismas, questa edizione sarà un po' più ricca, speriamo di poter coinvolgere invece che solamente Piazza Martiri e i due bar di Piazza Martiri, tutti i bar della dorsale dei corsi, quindi partendo da Portare Reale fino ad arrivare al 2 di Coppe a Piazza Garibaldi. Iniziative per i commercianti per favorire quantomeno l'afflusso dei potenziali clienti per Natale? Per Natale io ho proposto, intanto vorrei ricordare che anche se non è un'iniziativa diciamo a favore per favorire l'afflusso degli utenti ma che quest'anno abbiamo ridotto la Tari del 20%, abbiamo raggiunto un accordo per quanto riguarda l'illuminazione, abbiamo creato finalmente un tavolo permanente del commercio che si riunisce giovedì di solito alle 18 e credo che da lì debba scaturire un progetto, un piano per rilanciare il commercio, per avere delle nuove idee. Grazie a tutti.